Sarà ma dalla tipa ci vai? Vabbè io l'ho appena detto in una caga Tranne mello che evidentemente Chiudi 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 Merda Io dalla tipa ci vai Facciamo un giro in moto? Adesso va bene Eh ci starebbe Vengo anch'io raga In bici Oh bella Ci fermano e fanno dove andate noi E... A fare la spesa Dove sei residente? Eh assi gravati Non farò la spesa qui Se sta bene il coronavirus muore Andiamo a fare un festival quest'estate E mi piacerebbe Però... E mi è arrivato il biglietto di Post Malone comunque Vorrei... eh... Si mi sa che Post Malone però non arriva in... Soltanto che sta morendo Post Malone Sì Sì Eh sì Madonna santa Ma le due c'abbiamo a dire Secondo me io si Io pure Ma si tutti... siamo tutti in moto raga Abbastanza quotato in realtà Infatti nel culo che non esco Eh io dopo ieri... Sei un figlio di puttana Guarda 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 dove va sta macchina La hai chiuso una volta? 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 Ma che cazzo c'entra l'Aleotta adesso? Boh questa è una storia che figa L'ho ripetuta Ho detto cazzo E' proprio figa E l'ho ripetuta E ho detto ok Comunque non mi avevo invitato per un cazzo bello Che mi sai tu scusami Eh ho sentito quell'auto Dalli fai la ripetuta Sì sì parla proprio la disabile C'è non riesce a parlare E' proprio lui E poi devi... E poi devi fargli la bocca al sol Oh ho trovato una foto con quattro me Ah 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 E' sciso Eeeeeh ma che ooooo Il dominio che va da Campos Ma che è che il Mono ha queruto Orlando Dai Campos Mio? Non ho capito il cazzo Sì figa me Non esistere Non esistere Ma in casa tre giorni ci posso resistere Però poi dobbiamo trovare una strategia Ho capito ancora meno Che dobbiamo trovare una strategia E' questa no? E' parlarci attraverso No no che merda raga No io non ce la faccio ma volete stare bene Ma non c'è un modo E' quello gratis per fare i tamponi I tamponi I tamponi fatti in casa Ma c'era c'è la regetta I tamponi fatti in casa I tamponi fatti in casa Nello per fare il tampone in casa Prendi lo titolo Lo metti nell'acqua calda No fai due giri tutta stessa Ti chiudi con culo E' quello Davo Vecca 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 E che non mi ricordava bene Ma che cazzo è l'esempio di antiridio? Qualcuno è il fanculo No a me la cazzo sono quello Io non li uso il mio computer E' 635 giorni che va C'è la regina Buona Guarda Per quanto lo usi te poi Eduardo 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 E... 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 Il... eduardo tenevo un problema così lo risentti non sento più cazzo ecco ok ok che impazzito tu 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 questo l'ho fatto, Alexa ripruci the final countdown para pappa para pappa 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 tani pappa pappa Alexa riproduci il triangolo no no non è l'originale chi l'è? chi è che ha problemi? no no ma che ca... ma che ca... ok eventualità ma basta ma che ca... sta succedendo ma basta stai facendo gli aggiornamenti? ma tutto cazzo sto scaricando il forno mi sto scaricando tanti non ho capito Daniele dobbiamo partire a stare giù Daniele partiamo cazzo vabbè ma che stai dicendo tu lasciami qui andiamo andiamo in Calabria nooo vedi tipo la faccia di Daniele che zooma il nooo e il no che ne zooma e c'è Daniele in una campagna calabrese e chi è che ha come vicino di casa? la francesca quella è terrore quella c'è una villa della madonna giù minchia ti sei fatto sfottere oh edu ma alla fine andro bello? eh? suca suca c'hai quattro anni ma che cazzo ma perchè io... torno a giocare la micro abbiamo... abbiamo un inside giochi abbiamo un inside giochi eh ziiitto no ahahahahah c'è che sei andato? che c'è Mazzuio? ma non... non si sentiva tipo in delle canzoni che è uscito? che è uscito? edrial come si usa? allora la Q spari una merdina la V spari una merdina è bellissimo la V spari una merdina che potenzia la Q ma che cazzo è? oh 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 io in sto gioco posso ammazzare chiunque ma se impatto contro un albero si distrugge avanti ma che cazzo è? oh calmi dai ma io posso staccare la V di Elia oh 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 me lo devi dire tu è positivo o negativo? è positivo o cazzo? oh cazzo qui se vuoi daniele perchè almeno non muoio hai sbagliato persona ok allora vado c'era di e il balai ma ah tanto che non c'è niente ehm ok quindi le vuoi giocareta solo vado? mi propongo arrivo io ragazzi preoccupate visto Betto no daniele no ma rom triple kill pen o rabaton easy guppy bello però Ezio mi diverte anymore it's not a problem anymore si not a problem anymore a me si diverte boh raga mai hai cresciuto l'orda no bene è un segno raga hai guadagnato esso e due è rinnovato server si bye bye ha caduto 36 minuti ciao raga ok o e a 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 I'll take my words and walk away